Sono gli agricoltori, quelli che io chiamo ogni tanto gente invisibile, ovvero c'è una figura strana di agricoltore a cui ultimamente si fa più facilmente riferimento perché a livello mediatico si è puntato il faro sugli agricoltori ma fino a poco tempo fa non si sapeva chi fossero queste persone, erano delle figure un po' strane di fatto noi siamo, penso, gli unici agricoltori senza terra, io non posseggo un metro o quadro di terra però do un servizio all'ambiente, quindi oltre a produrre attraverso le armi una serie di cose do un servizio all'ambiente perché il valore vero dell'apicoltura è il lavoro di impollinazione che cosa significa? Tradotto nel pratico significa che l'azienda in cui lavoriamo in due, io e mio fratello garantisce tutti i giorni l'impollinazione, il servizio di impollinazione gratuito per la società ad un'area che è grande tre volte la città di Parigi. Questo è il vero valore dell'apicoltura poi per fare in modo che sia sostenibile, quindi che ci siano delle persone che allevano le api ovviamente ci deve essere un risultato economico che è quello della produzione del miele, della cera, dell'acropoli perché è importante il servizio di impollinazione? C'erano delle trasmissioni recentemente che hanno fatto vedere che ci sono in alcune università gli studi per sostituire le api con dei piccolissimi droni che dovrebbero fare servizio di impollinazione. C'è un problema secondo me di fondo ed è il fatto che le api garantiscono l'impollinazione tutti i giorni alle 100 specie botaniche che noi coltiviamo per cibarci, ma garantiscono tutti i giorni l'impollinazione a 350.000 specie vegetali che noi non stiamo utilizzando, che potrebbero essere una ponte del futuro, che fanno parte dell'ecosistema di altri animali, di altri insetti. Questo è la biodiversità. La biodiversità che è un concetto abbastanza abusato secondo me in questo periodo, se ne parla spesso a sproposito a me piace la definizione che ne fa un entomologo di Bologna che si chiama Claudio Corrini che dice che la biodiversità è il sistema immunitario del piede. Ed è esattamente questo. Se noi andiamo ad intaccare i tasselli che sono molto fragili, che regolano il nostro ecosistema, non abbiamo idea di quali conseguenze potrebbero esserci. Il più grande predatore sulla terra, mi sembra, sono le coccinelle. Le coccinelle sono dei predatori di antidi, soprattutto quando sono allo stadio di larva e sono incredibili. Se noi per, non so, l'agricoltura intensiva vengono eliminate le coccinelle, noi non riusciamo oggi ad immaginare quali potrebbero essere le conseguenze sull'ecosistema del fatto che manchi questo predatore. La coccinella è un progetto che per molti ha insignificante, in realtà ha un ruolo che è fondamentale nella nostra vita. Perché le api sono una società spreco zero? Sono una società che andrebbe presa ad esempio perché vive di un'economia praticamente perfetta, ovvero tutto quello che sono le scelte di questo superorganismo. L'alveare ha esattamente la metà dei neuroni del cervello umano. Tutte le scelte che fa questo superorganismo sono in virtù della sopravvivenza, della prosecuzione della specie, dell'economia. Quindi ogni scelta che l'alveare fa, e c'è un vero e proprio processo democratico il cambio dell'alveare per prendere decisioni, non è una monarchia come ce l'immaginiamo, la regina è il primo serbo dell'alveare, viene condizionata in ogni sua azione dalla scelta dell'alveare e ogni scelta che viene fatta è in virtù dell'economicità, dell'ottimizzazione delle risorse. Il favo delle api, che noi conosciamo tutti, quello con le cellette esagonali, è l'esempio più significativo di questo progetto, ovvero loro hanno creato una struttura che è la migliore in assoluto per ottimizzare lo spazio e ottimizzare i materiali e le risorse rispondenti. Cosa significa? Significa che le api non fanno le cellette esagonali, non sanno cosa sia un esagolo, le api fanno le cellette cilindriche, però per ottimizzare lo spazio le mettono una contro l'altra, se noi prendiamo un palloncino al centro, rompio l'aria e sei palloncini intorno e li stringiamo, quello al centro diventa esagonale, è esattamente la stessa logica quella a cui si rifanno le api, quindi loro fanno le cellette cilindriche però non lasciano nessuno spazio tra una celletta e l'altra e questo porta alla forma esagonale.